Eh, dopo vi chiamo, aspetta, Franck, io tengo una suona canzone, però si chiama L'animale, che ti faccio fare a Franck, il porco, posso mai far fare il porco a Franck Madao? Sì, dai, faccio un porco. Fai il porco? Faccio un porco. Un applauso a Franck Madao! Praticamente, a un certo punto della canzone, io dico, perché sono un animale, il popolo fa aaaah, e tre volte, perché sono un animale, perché sono un animale, Frank, scusami se mi per me, alla quarta volta, io dico, perché sono un animale, e tu fai, come l'ha fatto, una cosa a papà, poi ci mandiamo qualcosa di più, di più media, in tutto questo stiamo uscendo su duemila canali YouTube, li guarda bene, hai bisogno dello spartito o dell'animale di più media . C'è scritto il quattro, e questo è il video per città. I paesi in quarta notte, su una mente per bagnare, tengo la potente fama, e non mi vado a ragionare, su un grasso di 30 kg, non ce la faccio proprio più, rindo scura la cucina, sento al torno l'orraù, mamma la vigna da purché, e ma la pizza da purché, spaghi pressi, spicci, spicci, e ma faccio su saccicci, usco voglia d'antie, su stavola tra ciume, sto mi chiedevi le porte, e ma faccio su saccicci, perché sono un animale, un animale, 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 perché sono, concentrazione, un animale, E' il patano, dai va! Quale era facile? Guardate perché te la siete ricordate perché era di figlia Stavo per far miau E' planato l'armadietto, saldi in basso con il papà Questa è roba che la si è, forse è bella a scomagliare Ponga ma la c'è non c'è l'alto, vedendo la cassa Poi c'è lunga la porta, che la torta che ha di col Perché il sogno è arrivato a male Perché il sogno è arrivato Perché il sogno è arrivato Perché il sogno è arrivato E sono! Sì! Scusami, non ho capito bene, puoi ripetere? Scusami, non ho capito bene, puoi ripetere?